siamo quasi svizzeri e cominciamo la diretta siamo già in diretta su Facebook innanzitutto grazie a tutte e a tutti e diamo inizio ai lavori dell'assemblea di transform allora innanzitutto permettete di ringraziare chi è venuto da fuori per seguire lavori chi ci sta seguendo attraverso la pagina Facebook e chi è collegato attraverso il link via zoom e che attraverso questo farà gli interventi e l'idea iniziale dell'assemblea è nata non soltanto per una semplice formalità di transform dell'assemblea dei soci ma l'idea è quella di organizzare un ragionamento su il lavoro che stiamo facendo e le interazioni che con altri soggetti stiamo mettendo in campo come transform Italia per chi non non conosca transform Italia e quindi transform Europa dico semplicemente che eh transform Italia è il nodo italiano della fondazione transform Europe che è legata al partito della sinistra europea è la fondazione del partito della sinistra europea con cui eh collaboriamo e eh che promuoviamo anche eh in Italia il nostro eh lavoro ma è congiuntamente eh esplorato e costruito insieme anche a esperienze diverse come quella di eh questa sera che è appunto l'esperienza degli degli aderenti individuali al partito della sinistra europea e e che diciamo costruirà insieme a noi questo appuntamento perché è un appuntamento condiviso con loro e se esiste un noi è un loro perché eh è una cosa che abbiamo promosso anche come transform Europa nei tempi passati e quindi ci sentiamo anche parte integrante di questo progetto di questo processo eh io non dico molto di transform Italia perché le esperienze e i filoni di ricerca le le linee che stiamo seguendo poi verranno mano mano eh presentate da da chi insieme a me eh lavora eh ormai da anni a questa impresa e permettetemi solo di eh allargare e alzare un po' lo sguardo all'europeo e dire quello che transform Europa eh sta promuovendo in questi in questi mesi in questi mesi difficili per la sinistra in Europa e e sono piste di ricerca anche queste molto attuali eh prima di tutto è chiaramente quello della pace e e l'appello che abbiamo promosso a livello europeo eh è sul nostro sito e lo potete trovare è una eh un impegno che come transform Europa ci siamo assunti per eh rendere visibile una posizione molto scomoda che a giorni nostri è assolutamente assolutamente oscurata cioè la possibilità che si possa ancora parlare di una pace e non di un armamento e questo è dentro eh permettetemi eh la citazione dentro quella che abbiamo definito la battaglia delle idee una battaglia delle idee che nasce appunto dall'in dalla possibilità di dare dare voce e dare parola a un mondo che è il mondo principalmente il mondo del lavoro che è stato escluso eh da dallo scenario eh europeo e e globale e che senza di cui nessuna pace nessuna soluzione pacifica può esserci per cui questo titolo che abbiamo dato all'assemblea è ha significato proprio di questo interesse di questo interesse di rappresentare una parte di ragionamento un ragionamento che per quanto eh come dire formalmente garantito viene praticamente escluso dai nostri media e quindi penso che sia una necessità di di transforma di della sinistra eh in Italia e in Europa trovare la una forma attraverso cui eh si crei questa convergenza di interessi di intelligenze di spazio di comunicazione capace di dare spazio e voce a questo altro pensiero e ringrazio innanzitutto l'Arci di averci eh fornito l'ospitalità di averci ospitato qui in questa sede e ci sarà poi dopo un intervento di Filippo Miraglia che eh a nome dell'Arci eh diciamo racconterà un po' quello che stanno facendo ma eh così come eh subito dopo di noi alle quattro e mezza eh entrerà diciamo formalmente la presidenza dentro alle mani capienti in mani di Piero Soldini che è un promotore dell'Assemblea eh degli aderenti eh alla sinistra europea io non dico molto di più perché gli interventi sono molti e e e molti saranno i collegamenti da fuori a cui eh volentieri cederemo la parola per cui do subito eh la parola a Giancarlo però che non si eccolo che non si eccolo Grazie a tutti.